Juventus e Fiorentina di fronte nel lunchtime match domenicale di questa giornata numero 8 della serie A femminile team che resiste ad un paio di aggressioni poi Bierenstein si muove in orizzontale Bonansea pensa al tiro traversa di Barbara Bonansea conclusione non fortissima calciato bene in ogni caso Bonansea sta vivendo una buonissima stagione occhio a Bierenstein che trova un varco nel mezzo le dette il passaggio girelli Bierenstein fa tutto da sola Bierenstein è un super goal con dedica al cielo per Linet Bierenstein l'abbraccio delle compagne è di esultanza ma è anche di affetto tutto da sola rivediamo andando ad altissima velocità in conduzione e poi con precisione nell'angolino in basso alla destra di Schrofenegger qui un gran recupero di Giulia Grosso che entra a tutta velocità in area prende il fondo Grosso e si fa chiudere sul primo palo da Schrofenegger e qui forse avrebbe potuto alzare la testa perché c'erano un paio di compagne in interdizione di Alice Parisi c'è rimessa per Nilden Bonansea cerca un varco al centro ma ancora al tiro Bonansea deve smanacciare in angolo Schrofenegger è la seconda volta in cui Barbara Bonansea ci prova da lì in questa partita e anche bella parata dato merito a Katia Schrofenegger c'è sempre un filo di tensione lì sulle marcature e uno schema girelli col tacco poi Caruso salvataggio sulla linea due volte di Parisi ma come sappiamo non è una scusa totale qui uno e due salvataggi si gioca Pedersen Bonansea riesce a far passare il pallone occhio a Lisa Boatin che prova a prepararsi il tiro e alla fine chiude sul primo palo Schrofenegger nemmeno semplicissima per entrare in area Boatin non l'hanno tenuta poi aveva provato a seguire l'azione Jackmon ma Fiorentina non riesce a innescare la statunitense allora ripartenza Juve a tutta velocità con Bonansea che riesce a superare a guard poi Bonansea in caduta fa anche lei tutto da sola Barbara Bonansea per il 2 a 0 della Juve settimo gol in sede a la Fiorentina per Barbara Bonansea che quando vede viola ha vinto il contrasto con Agard e poi è andata a calciare sul secondo palo dopo essere scivolata praticamente Bonansea va dentro da Parisi entrata in area strada chiusa da gama allora pallone di nuovo fuori per Cafferata il cross e il tentativo di Miriam Longo che calcia al volo e alla fine si ritrova il pallone tra i guantoni prova a prendere il fondo Agnese Bonfantini lo fa ci riesce alla fine è finita in porta Bierenstein ma l'azione continua con Cantore che va sul destro palo di Sofia Cantore rivediamo appuntato Erzen e poi quasi perfetto il destro di Sofia Cantore che ha preso poi Bonfantini che a metri di campo da percorrere palla al piede cerca di andare dentro da Cantore Cantore col destro e salta ancora una volta Schrofenegger Bierenstein ha l'opportunità di andare al tiro e sceglie di scaricare su Cantore e finisce così Juve batte Fiorentina 2 a 0 e finisce così Juve batte Fiorentina 2 a 0 e finisce così Juve batte Fiorentina 2 a 0